Lo screening può salvare i soggetti a rischio dall'eventualità di morire per un cancro ai polmoni. La neoplosia polmonare rimane il primo big killer secondo i dati ISTAT ed è spesso operabile con la chirurgia mininvasiva se si incorre in una diagnosi precoce. Di questo si è parlato a Sulmona in un convegno sulla prevenzione delle patologie polmonari con ospite d'onore il professor Achille Lococo, coordinatore scientifico di un gruppo di studio creato dalla Società Italiana di Chirurgia Toracica. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Associazione dei Medici Cattolici Italiani e i Lions Club del territorio. Ci sono delle novità che riguardano soprattutto la diagnosi precoce. In particolare dal Ministero della Salute è partita recentemente questa iniziativa di pianificare sullo territorio nazionale una campagna per lo screening e quindi facendo rientrare anche lo screening per il tumore del polmone tra ILEA. tra i livelli essenziali d'assistenza. Perché? Perché ci sono stati due recentissimi studi, uno americano e un altro olandese, che hanno dimostrato che effettuare lo screening in soggetti forti fumatori può ridurre la mortalità per il tumore del polmone addirittura anche del 25%. Come si fa a prevenire questo tipo di neoplasia? Ci sono diversi aspetti da considerare. Quello del fumo di sigaretta è specifico del tumore del polmone perché sappiamo ormai tutti che c'è un nesso molto forte tra fumo di sigaretta e insorgenza del tumore del polmone. Soprattutto nella fase iniziale non dà alcuna sintomatologia. Per cui noi arriviamo a fare una diagnosi in uno stadio molto avanzato. e quindi solo un 30% dei pazienti che si ammalano di tumore al polmone possono fare una chirurgia perché hanno ancora un tumore in una fase non avanzata. E quindi chiaramente l'obiettivo è quello di aumentare il numero di pazienti che noi riusciamo a diagnosticare con tumore al polmone a uno stadio iniziale e fare una chirurgia che può essere una chirurgia radicale ottenendo la guarigione. Il consiglio è di non fumare? Assolutamente sì, consiglio di non fumare e soprattutto un messaggio che dovrebbe essere importante e per i giovani perché i giovani cominciano a fumare la sigaretta elettronica che è solo esclusivamente l'inizio di un percorso purtroppo che li porta poi a passare alla sigaretta di tabacco e quindi non è sicuramente una soluzione del problema.